Ciancelotti siete i maestri del calcio, Mazzone che cos'era? Ma Mazzone è stato il più forte di tutto, mi dispiace Arrigo ma... Mazzone, Carletto? Cos'è pensato quando è visto Mazzone e quando è sotto la curva? È un fenomeno... La prima volta che è stato a Brescia, era in Brescia-Atalanta e è andata sotto la curva e ho pensato che cazzo faccio cuore? Le persone per bene se meritano tutto, mi ha aiutato molto mi ha aiutato molto un periodo duro della mia carriera qua in Brescia nei primi mesi e è stata una persona per bene forse posso vedere queste parole e gli mando un abbraccio fortissimo a lui e alla sua famiglia